Un maxi schermo allo stadio Maradona per seguire in diretta Udinese Napoli. Resta fissata alle 20.45 di giovedì sera una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla festa Scudetto e a cui ha preso parte anche il presidente De Laurenti. E' questo appunto l'esito del vertice di questa mattina che si è concluso davvero da poco.